Allora, ragazzi. Come potete vedere la pallina? Guarda, guarda, la pallina è proprio la cosa. La pallina, la lancia. Guarda, 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 guarda questa. Allora, sono qua. Allora, sono qua. tu te la vuoi mi trova qui al ritmo qui al ritmo perché mi carico? non hai avuto il genito non hai avuto il genito non hai fatto tutto veloce non c'è tanta la patica non hai avuto il genito al ritmo sopra la testa allora lecce non c'è stessuto per il genito non c'è stessuto per il genito aspetta al tracco non c'è stessuto non c'è stessuto per il genito non c'è stessuto per il genito allora va bene va bene non c'è stessuto per il genito non c'è stessuto per il genito ma non c'è stessuto per il genito perchè la vera non ha scritto che c'è da lei da mattina all'interno